Porca puttana mi stava arrivando una lanterra in faccia Signori bentornati in un nuovo episodio di Amnesia The Bunker Nell'ultima puntata abbiamo esplorato un pochino quello che è la sala Sala Cazzi, la chiameremo sala comunicazione se non sbaglio E dovevamo ancora esplorare la prigione Il problema è che abbiamo fatto anche conoscenza Delle buon uomo che si nasconde qua no? Una bestia incredibile che adesso Prima non ci sentiva manco per il cazzo Facevamo il bordello, esplodevano granate Rompevamo porte così a cazzo Invece adesso se respiriamo Lui ci sente così Ci sente basta Allora, in teoria L'unico punto dove si può salvare È quella lanterna Diciamo del centro bunker Tra l'altro qua c'è un'altra porta E queste porte volendo Se le buttiamo giù Oppure abbiamo un oggetto pesante Uno so come Mamma ci sei? È un po' un casino raga Però vi dirò una Mamma mia Che sound Però vi dirò una roba Vi dirò Ok, lui è praticamente in questa stanza Che qua c'era la stanza Quella dei ratti Che poi noi Io adesso voglio solo prendere questo E me ne voglio andare Devo prendere questo Ma rimane il cagarello Se riuscissi a prenderlo Dovrei poter sfondare le porte Si è spenta la luce Non è un buon segno Ok Ci siamo Ci siamo Vorrei provare a rompere La porta Si 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 Ok Cos'è Cos'è Cosa significa sta foto Che cosa sarebbe Queste sono praticamente le due stanze Che abbiamo accanto Noi siamo qui Qualcosa del genere Comunque una nota Diario di Schubert Un rapporto Mamma mia Ma qua c'è il bordello Vabbè Allora Sono accaduti strani eventi L'altra notte Il soldato Lambert Disperso Presunto morto Dopo la sua pattuglia Dell'otto E' ritornato alle caserme In perfetta salute Trasportava il soldato Clement Gravemente ferito A seguito di un'esplosione Lambert Ha fornito il seguente resoconto A circa metà del suo giro Pattuglia E' caduto in un createre E si è infilato Un legno nel culo Profondo Aggiungerei E non è stato in grado Di uscirne da solo L'ho dovuto aiutare Ieri notte Clement Il suo amico intimo E qua Non voglio immaginare Come diciamo Hanno reagito Diciamo Aveva un palo nel culo Insomma Ho trovato L'ha tirato fuori Ma vera Ma veramente L'ha tirato fuori Beh comunque Sono tutte storie Cioè Abbiamo capito Che noi siamo Oddio Porca puttana Vedi qual è il problema Di sto gioco Che in questo gioco Si sono dimenticati Che il checkpoint E' una roba Che serviva Non ci sono checkpoint Non c'è un cazzo Non c'è manco la luce Non so manco il motivo Per cui alimentiamo Sto generatore Dato che non c'è luce E ora io Dove cazzo Devo riandare lì A prendere il coso Dobbiamo stare solo attenti Ai fili Qua cosa avevamo trovato L'ultima volta Non c'era niente Carburante Porca puttana Raga io non riesco Non riesco Ad andare lì Oddio Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro Ce l'ho dietro L'ansia Porca puttana Oddio ma No raga Non si può capire L'ansia Non si può capire L'ansia La prigione Sembra un'aria piccola Non dovrebbe essere Grandissima Ma il problema Quello che io mi domando Da anni direi E Cosa cazzo serve Sto cazzo di orologio Aspetta che mi equipaggio qua Con le tre Tasto rapido Eh Eh Ok Sì Siamo messi bene per corrente Poi Io veramente È ufficiale raga Non mi sto imbrogliando Sono veramente un coglione Cioè tutto sto tempo Metto il carburante E non accendo il generatore È veramente Qualcosa di Di Io sono un coglione E questa è l'unica realtà Salva dai Siamo pure full Salva salva Ma che due coglioni Eh Adesso possiamo Tipo faccio così Accendo le luci Ma dai Perfetto E siamo pure full Col generatore Non so quanto dura Ma dobbiamo cercare di esplorare Sta zona Mentre abbiamo la luce Facendo Ok abbiamo un caricatore sano In teoria Leggendo la nota Abbiamo visto che I proiettili Non lo uccidono Ma sicuramente Lo rallentano Quindi potremmo sparare Un colpo Per avere poi La possibilità Di scappare Ma adesso che il generatore È attivo Posso entrare Però c'è da dire Che io adesso Vedo cose Non dobbiamo morire Per nessun motivo Raga Porca puttana Lui è qui Ma infatti Sta cosa me triggerava Dicevo Ma che cazzo Attivi il generatore Ma non serve a nulla Queste cose Non si possono Magari non abbiamo Per adesso L'oggetto Per poterlo fare Però secondo me Si devono poter rompere Quindi qui è dove Abbiamo trovato La piastrina di Clement Ma i ratti Dove erano A destra allora Non so se bisogna Abbiamo preso i ratti Poi siamo Eh lui è a destra Con coincidenza Eh ma non dura un cazzo C'è pure una musica In sottofondo Bellissima E noi è di qui Che dovremmo andare Cosa mi si è aggiornato Nella mappa Non ho preso un cazzo Si è aggiornato qualcosa Comunque Qualcosa è successo Ok Ah ecco Qua è dove erano i ratti Perfetto Ok quest'aria è nuova Dobbiamo sfruttare Quella poca luce Che abbiamo a disposizione Con il generatore Tra l'altro qua Non si vede un cazzo Ok Carburante Poi lo riforniamo Il generatore sicuramente Ci sono i vari letti Dei soldati Però non vedo niente di utile Un altro armadietto Dimmi che c'è qualcosa Una nota Dai Cinque maggio Da Gionannes Gio Gioannes Gioannes Vabbè Lui e lei Mia chiara Ti ringrazio per il pacco No vabbè Questa è oscena Questa è oscena Già parte così Parte male Cos'è un'altra nota Diario di Neuer Apre delle gallerie Ma già queste gallerie Già c'erano Niente è questo Questo bunker Cos'è sto rumore Ma sono i ratti Ok E mentre loro si allontanano Io dovrei poter raccogliere E poi ricordiamoci Che da lì ci chiudevamo male Apriamo qui Troviamo un colpo pompa Ce ne andiamo subito di qui Perfetto ragazzi Stiamo giocando di lusso Ok qua si torna indietro Ok salviamo Salviamo Perché veramente qua abbiamo fatto Tutto quello Che non avevamo fatto Nello scorso episodio Tra l'altro ci siamo pure aperti le porte Perfetto E mentre mettiamo il carburante Al generatore Mamma mia Raga Adesso si che ci stiamo giocando bene Bravi 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 Cioè bravi cosa Bravo io Che sono un grande Poi tra l'altro nella piastina Non c'era un codice Quindi non abbiamo Un altro codice Negli armadietti Ok Riforniamo Allora a sto punto Diamo un'ultima controllatina Lì Per vedere se È sicuro Che non ci dimentichiamo Niente Dovremmo riprendere Quel blocco E aprire di nuovo Questo È questo che non abbiamo Rifatto Madonna Ah scusa Quindi da qui Non posso passare Perché c'è il colpo Ma se io tiro un oggetto Scoppia la bomba Ho paura Ho paura Però obiettivo sbloccato Blocco tutto L'ingegno Oddio qua c'è del carburante Perdonami Non lo prendo più Io ho un elmetto Non ho paura di usarlo Se passiamo di qui Ma non so ancora come fare leva Penso proprio manchi l'oggetto Ecco però qui abbiamo Il nostro blocchettino santo Nel frattempo dobbiamo stare molto attenti Se viene quello Dobbiamo cercare di non morire Ok Questa sottomappa È stata aggiunta Alla mappa principale Dell'ufficio amministrativo Perfetto Allora io non so se ho fatto tutto Ho bisogno di controllare la mappa Perfetto Abbiamo sbloccato Tutto il bordello Quindi una volta che noi entriamo qui E c'è il lungo corridoio Abbiamo una stanza A cui dovremmo andare Ma qui c'è il blocco delle celle E c'è un'altra porta Volendo a sinistra Che potremmo aprire È questa che dobbiamo tentare Perché c'è pure la freccettina Tutto il resto sono varie stanze E quindi ancora qualcosa da fare C'è sicuro Come siamo a generatore Tanto ancora abbiamo la prigione Pure da esplorare Ma qui è sicuro Che ancora qualcosina possiamo farla Ce la stiamo giocando sicuramente meglio Da quando abbiamo scoperto la luce Perché tutto al buio Dovevamo avanzare molto piano E soprattutto facevamo Un mare di bordello Con quella torcia Quindi secondo la mappa A destra non c'è niente Mentre a sinistra Ecco il gas si è tolto Avrò fatto esplodere qualcosa di gas Eh la luce è questa Però vedi lì Lì c'è un altro blocchetto Che serve fare Dobbiamo tirargli qualcosa Prendo la scopa E per adesso ci ha aiutato Che sfiga ho Dimmi che la posso prendere così Panico raga Meno male che comunque Stiamo di tanto in tanto salvando E quindi Sti gran cazzi Se siete arrivati In questa parte del video Mentre sono nascosto Lasciate due like Due Giusto per dire Sla io c'ero Mettretti cacavi addosso Sotto un lettino In un bunker militare Abbandonato nel 1916 Io che ce ne andiamo Prendiamo la tabia Dobbiamo rompere la porta Dritto per di qui a destra Purtroppo camminiamo Molto lenti Devi romperti veloce Ti prego Oh Porca puttana Che ansia C'avevo Ma vai a cagare Con sti ruggiti Il battito del cuore I terremoti Il sound Le luci che si spengono Quando passa lui Cos'è che erano tutti I ubriachi a ballare Cosa rappresenta Qua non vedo niente di Di utile Scatola chiusa Non mi convince C'è sta scatola Sta scatola che si apriva Così a caso E questa Non lo so Se si sfonda sempre Con il Con la pietra Sapete Il problema è che La pietra si è rotta Bene Allora ce ne andiamo Ce ne andiamo Perfetto Abbiamo una tanica di carburante Che io andrei A mettere Non lo vedo Tanto pieno E dobbiamo andare Ora Fino a Prigione Perfetto Adesso piano piano Armati di coraggio Dobbiamo andare a prigione Sperando che poi Troviamo degli oggetti Utili da poter Usare Perché per forza Non c'è qua niente Non saprei Cosa fare Quindi dobbiamo Per forza Esplorare questa zona Salvataggio della vita Che poi non si salva In realtà È soltanto tipo Che carica la zona Adesso qui Stiamo molto attenti Fortunatamente Stavolta c'è la luce L'ultima volta Eravamo interati Qui al buio Oh porca puttana Non c'è una porta Che si apre Madonna Oddio Oh c'è un prigioniero Vai a cagare Stai zitto Minchia spero Ti incula male No se mi esce di qui Sei proprio infame Vai a cagare Zitto Minchia ti sparo Eeeh Bitta Tosuaro E poi stai infamata 20.000 porte chiuse Una si apre Trovi il filo Legato alla porta Tanto pure Con una granata incendiare Comunque dove cazzo È sto prigioniero Io non lo vedo Sei tu Ah no è un buco Oh buongiorno Ah ma questo è il prigioniero Di cui parlavano Forse Quello che abbiamo visto Nella nota Che abbiamo letto Che era un ufficiale Se lo sono voluti tenere Tutti li hanno trasferiti Tranne lui Minchia Quello mi serve Per tagliare le catene Come cazzo si apre Sta porta In teoria In teoria Dato che non c'è Il modo di aprirlo Dovrebbero aprirsi Tutte con un Con qualche leva Con qualcosa Che apre Che sblocchi tutte le celle Ma queste porte qui Si possono rompere Sì Ma vaffanculo A saperlo prima Ok Una nota Speriamo qualcosa di utile 16 maggio 1916 Pro memoria Se dovete rimuovere Delle grate Chiedete al capomastro Stafford Giù in manutenzione L'apposita chiave inglese Visto che ci siete Chiedetele Ok Quindi per rimuovere le grate Ci vuole una chiave inglese Quindi non devo fare leva Ma vado a svitare I bulloni Qua la tenaglia Serve Nella cella Di quel prigioniero qui Qui si apre Non mi piace Ma qui in teoria Vado dietro le celle Dietro Ho un kit medico Buono C'è una benda Non dovremo essere messi al top Forse volendo una benda Possiamo usarla Non è il massimo Però evitiamo Di farci sgamare male Qui ci vuole una chiave inglese Qua c'è del gas E noi abbiamo ancora Questo blocco Ci permette di rompere La minchia C'è un'altra porta Che potrebbe ancora servire A quello lì Di sparo comunque Fra un po' Manca poco Ma qua è dove E' esploso tutto Il bordello Cos'è? Ah Raggio segnaletico Usare quando hai bisogno Di assistenza Segnala la tua posizione Grazie alla sua fiamma Luminosa e stabilante Può essere lanciato Ok Del carburante Ma siamo full Qua abbiamo aperto Quest'altra porta Io dovrei salvare Ok Così aggiorno la mappa Quindi abbiamo le celle Lì che devo andare Questo l'ho capito Qua abbiamo le altre stanze Del deposito Vediamo se in questi cassetti C'è qualcosa O una granata Mamma mia Io a questo punto Butterei qualcosa Eh ma non so cosa Eh qua La roba c'è Non so se da qui Posso fare una roba Perché quello è un lucchetto Cioè E' E' proprio Il ferro Non è Il lucchetto Che posso spararli Allora Qualcosa da fare C'è Dobbiamo solo capire cosa E soprattutto Capirlo senza morire Quindi io non so Mi farei un salvataggio Perché comunque abbiamo visto Troppe robe Ci sono anche oggetti che non possiamo prendere Quindi magari ci svuotiamo Perfetto Possiamo questo razzo Lo straccio Lo mettiamo sulla bottiglia Abbiamo tre molotov Bene Sappiamo cosa fare nella prigione Non sappiamo semplicemente come andarci A meno che Basta trovare una chiave inglese Non è proprio un oggetto Ma è proprio quella cosa che prendiamo E Possiamo fare robe Ma Mi sembra un po' strano che sia così Non c'è modo di aprire le celle A meno che io sparo E lui Vediamo se succede qualcosa Porca puttana Il cacarello Però forse Sparando lui Lui magari Se lo va a mangiare Che ne so Io la La vedo così Tutto il colpo A parte mi stava sui coglioni Due ore che parla Dai vaffa E qua c'era una Oh cazzo Eh Quella era una che mi manchiava Forse è lì Quello che devo trovare Dove cazzo la vado a trovare Una chiave inglese Ma veramente Vediamo se mi riesce il piano Ragà Non vi assicuro nulla Vediamo se veramente Il gioco funziona così Perché se no A parte che non avrebbe manco senso Il fatto che ti fanno prendere Sti oggetti Che poi alla fine Non servono a niente Dobbiamo andare dall'altra parte Provare ad aprire la grata E se prendiamo la grata Lì dovrebbe esserci poi Qualcosa di utile Che ci serve dall'altra parte Tra l'altro Se questo cosa funziona Possiamo aprire un altro passaggio Ma non funzionerà mai Eh non è così che funziona Ci ho provato Ci ho provato Via 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 Non è questo che devo fare Però abbiamo fatto comunque Delle robe Abbiamo comunque fatto delle robe Signore Quindi io vi saluto Ci vediamo nel prossimo episodio Qui con Amnesia The Bunker Ciao bene mia